Sareste davvero disperata senza di me. Smettila. Lascialo, seguimi. Dove andiamo? Vedrai. Sì. Che fai? Sei serio? Vieni! Porta qui le chiappe. Che cosa stupida. Andiamo. Dai. Che succede? Ehi. Che c'è? Non andare. Scusami. Per cosa? Ora che facciamo? Troveremo un modo. Ma non credo che Marlene esulterà. Aspetta. Riley! 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 Grazie.